Questa invece è una pianta dolce come la stevia che si usa per addolcire le bevande e per fare i dolci. La vedete? È una bellissima pianta, bella, morbida, morbida, con fiori belli. Vedete? Quando finisce di fare i fiori fa i semi molto grossi, quelli sono anche commestibili. Tutta la pianta è commestibile, foglie, fiori e semi. Si può fare i pomodori gratinati al forno con i semi di questa pianta, assieme al timo e le altre erbe. Qui sotto c'è un'altra varietà di origano, colore oro. Vedete? Bello, le foglie. Vedete quante sono belle? E qui invece c'è l'altra pianta di menta, menta del Marrocco, questa verde, molto profumata. E poi c'è la menta inglese, anche questa molto profumata. Vedete quante sono belle? Stanno a crescere. Queste si fanno alte un buon 50-60 centimetri. Poi c'è il mio elfo, a leggere sotto una pianta che sta pure a crescere. Questa diventa un metro di altezza con bellissimi fiori gialli, verso luglio e agosto. Poi c'è l'arnica, l'arnica è questa. Questo gruppo di fogliame che si vede è l'arnica, che si usa per le ricette salutari. Ancora non fiorisce perché fiorisce verso luglio. Ancora non fiorisce per loro.